Non avete tagliato le tasse, anche se potevate farlo, con i 4 milioni e i 600 mila euro di avanzo d'amministrazione lasciati dall'amministrazione Perri. E' Maria Vittoria Ceraso, dai banchi del centro-destra, a lanciare oggi in Consiglio Comunale la protesta contro il carico fiscale che grava sulle spalle dei cittadini cremonesi. Ci sarebbe stato il tempo necessario, perché il bilancio è stato approvato addirittura a luglio. Tutta colpa del governo, per l'assessore Manzi, e di quei tagli dai finanziamenti statali che aumentano ogni anno. Cremona ha dovuto aiutare i comuni indebitati, versando 1 milione e 300 mila euro allo Stato per il Fondo di Solidarietà. I comuni virtuosi pagano il conto di chi si trova in deficit. Manzi lamenta quei 2 milioni che il Comune, per legge, ha dovuto mettere da parte a causa di ben 2 milioni di crediti che a causa della crisi potrebbero non essere più incassati. Se l'aumento delle tasse è voluto dal centro-destra prima delle elezioni per i 600 mila euro, ha evitato al Comune l'uscita dal patto di stabilità Ora Lucia Lanfredi, dai 5 Stelle, con un'interrogazione presentata oggi, contesta l'atteggiamento burocratico del Comune, che dà la caccia agli evasori fiscali, invece di aiutare i cittadini a rimediare in dicembre agli errori commessi in giugno e nel compilare il modulo dell'Imu. Dieci anni fa l'ufficio entrata del Comune offriva un servizio gratuito ai contribuenti. Venite in via Geromini, dove il calcolo lo fanno gli impiegati. Ora invece il Comune ha assegnato questo servizio ai CAF sindacali e il cittadino paga così sia il Comune che i sindacati, anche se proprio l'amministrazione ha commesso alcuni errori nella fase di preparazione dei moduli.